Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre mi vedo su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in Google Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione, vi ricordo di attivare la campanina per non perdere ogni video. Oggi farò il recap delle novità del mese di luglio 2022. Prendo in esame le novità uscite, cioè i nuovi volumi, i volumi 1, per farci capire, le nuove edizioni che iniziano, sempre volume 1, non quelle in corso, perché qualsiasi altro volume esca, comunque c'è già i video acquisti, quindi potete guardarci lì. Le variant che sono uscite, manga conclusi, ovviamente tutto ciò che seguo, ovviamente solo quello che seguo è riferito. E se per caso ho stoppato qualche manga o ho ripreso qualche manga. Detto questo, direi pure appunto di iniziare dalle novità del mese. Novità 1, G-Man, 7,50€. Questo video è uscito, non ricordo, mi sembra, ieri probabilmente. Molto, molto bello, mi è piaciuto. Dalla Ikari, devo dire, anche i disegni sono fantastici. Horror, gli animali, praticamente si vendicano dalle persone che gli hanno fatto degli esperimenti addosso. Questi animali, come vedete, acquisiscono un volto umano, pensano e ragionano come gli esseri umani e vogliono vendicarsi però appunto di loro. Quindi molto, molto horror. Poi, lasciamo a J-Pop, gli squalificati, Ranger Ratchet, volume 1, ovviamente, 6,50€, che non continuo. Una brutta coppia di Super Sentai, dei Power Ranger. Proprio una brutta, bruttissima coppia. E non mi ha entusiasmato, comunque ci ho fatto il video a riguardo nel caso. Poi l'altro manga che ho stoppato, che non continuo, cioè J-K Paru, 7€. È un Isekai molto pieno di fanservice. Cioè, il protagonista finisce in questo mondo e decise di fare la prostituta, praticamente. Il primo volume è questo, non mi ha portato nulla. Ma non mi ha dato alcun motivo per desiderare di continuarlo. Quindi, l'ho fermato lì. Altre novità della Ikari, Cinema, 7€. Questo, invece, lo continuo, che tra l'altro è una miniserie a 4 volumi. Anche, ovviamente, di tutti c'è già uscito il video. Quindi, nel caso, spulciate il mio profilo e vedrete i vari video. Oppure, nel caso, se vi interessa un video specifico, anche magari da tanti, magari fate fatica a trovarlo, scrivetemi su Instagram o su Gupotele, anche io vi mando il link. È comunque molto interessante. Questo ragazzo che, fin da piccolo, figlio di uno che riprendeva il cinema, fin da piccolo ha avuto questa passione del cinema, di riprendere la sua vita, e fin da piccolo viaggia sempre con la sua telecamera, sempre accesa, per riprendere la vita quotidiana e, spesso, a volte, causa di proprio volontà, disastri o casini per riprendere, per fare, diciamo, una ripresa più movimentata, un film più movimentato. Il suo obiettivo è riportare alla nuova luce un cinema di città che stava, non dico scomparendo, ma era poco attratto, poco attraibile, e c'era poca gente che ho frequentato, quindi fallo ritornare ai suoi fasti. Manga della Magic Press, l'Arem alla fine dei mondi, 6,90€, anche questo l'ho stoppato, è un Isekai pure questo, anche questo molto ecchi, fan service, qua si possono comprare le schiave, ma le schiave in particolar modo il protagonista vuole comprare le schiave e crearsi il suo harem, probabilmente. Però ecco, ho tanti, già i tanti Isekai, e sinceramente, tra tutti, probabilmente, non mi entusiasma, Redo Healer è sicuramente migliore, anche se sono Isekai, ma è in ambientazione fantasy, Redo Healer, per me, li batte tutti quelli, di questo genere, quindi se cercate qualcosa di ecchi, pieno di fan service, Redo Healer, secondo me, è il migliore, almeno attualmente in corso. Poi, Umawa, una novità, della Star Comics, cioè Sweet Home, volume 1, 12,90€, essendo Umawa alla lettura occidentale, molto, molto bello, secondo me è più bello di Bastardo, non so, se l'avete letto di entrambi, datemi un vostro parere, in pratica, questo ragazzo, che perde tutta la sua famiglia in un incidente, si trasferisce in un condominio, però si accorge che ci sta succedendo qualcosa di strano, una vicina di casa, e comincia a trasformarsi in un mostro, per vari motivi, sviene, non vi dico altro perché, non voglio fare spoiler, comunque c'è già il video dedicato, uscito venire al discorso, e si sveglia e scopre che il mondo è cambiato, e c'è questa mostricizzazione in atto, quindi sono davvero curioso di vedere come va avanti, novità delle novità, o meglio, è una novità per me di dire, perché è la prima volta che viene editata in Italia, però manga degli anni 70, e finalmente è arrivato questo Spokon, uno degli Spokon migliori di sempre, una pietra migliare, oltre di Spokon ma proprio del manga, sto parlando di La Stella dei Giants, è edito della Dint, questo volume 1,24 euro 90, ma tenete conto che sono quasi tre volumi in uno, quindi il prezzo è assolutamente corretto e giusto questo, e ve lo strasta consiglio questo, perché, anche se nomati Spokon a fine come me, non mi entusiasmo di Spokon, però questo oltre a parte sportiva ha anche molta parte personale, e parla di sacrificio, di abnegazione, di sogni che i genitori riflettono sui figli, a qualsiasi costo, e devo dire, mi è piaciuto davvero tantissimo, e lo straconsiglio. L'ultima novità che ho recuperato, per lo stesso mese, è un manga volume unico, della Rizzoli, cioè Canto d'Acciaio di Usiamo Tezuka, prezzo 18 euro, se mi ricordo, 18 euro sì, volume unico, a suo interno l'80%, effetto il Canto d'Acciaio ha la storia principale, poi ci sono altre due mini storielle, a fine volume, quindi sono tre storie, la principale ovviamente è quella più importante, e altre carine, ma niente di che, però Usiamo Tezuka lo voglio leggere tutto. Poi passiamo adesso, alle Variant, Limited, la prima Limited che vi propongo, è Demoslayer 20, che era vendibile insieme, ovviamente la regola, e la va alla Limited, ha la stessa copertina, un'unica cosa che cambia, dalla Limited, e che aveva questo cartone, questo pocket, con dentro 18 cartoline, se non mi ricordo, era 18-16, non mi ricordo, esattamente uguale all'edizione giapponese, quindi, ai suoi tempi ci avevo buttato un occhio, però tra il costo, la dogana, il trasporto, ho lasciato perdere, e sono felice che l'hanno portato comunque anche in Italia, perché ha il suo bel vedere anche così. Poi abbiamo l'unica vera Variant, che è l'attacco dei giganti, lo Steel Box, 19,90€, della Planet Manga, quindi, come tutte le Steel Box, si potevano acquistare, solo sul sito della Parini, che vanno esaurite in 2 minuti, praticamente, e questa è la Variant, come tutte le Steel Box Variant, la cartolina e il magnete. Poi l'ultima altra cosa, Limited, della Icar, è G-Cocku No Senki, stesso prezzo da Regula, stessa copertina da Regular, solo che ha queste due cartoline. quindi se siete in dubbio nel caso, se prende G-Cocku Senki o meno, o volete prenderlo, in questo caso, se c'è possibilità per il Limited, che tanto costa uguale a 12,90€, come la Regular, quindi il prezzo è assolutamente identico. Poi le nuove edizioni, due le sono uscite, Beck, New Edition della DIN, 12,90€, due volumi in uno, anche qui un ottimo prezzo, devo dire, e anche questo mi è piaciuto parecchio, e ve lo consiglio, Beck, parla di questo ragazzo, che vive una vita tranquilla, normale, fa le medie, e ha la sua vita in extravolta, da un chitarrista, da un cantante, da un chitarrista più che cantante, e scopri avere la passione, per la musica, ha una bella voce, anche se non l'ha mai, dato modo di sentire ad altri, vuole imparare anche a suonare la chitarra, e vediamo come procede. Poi l'ultima nuova edizione che è uscita, fresca fresca, è Neo Genesis Evangelion Collector Edition, volume 1, 14,90€, edito da Planet, al cui interno c'è questa cartolina, poster, non so chiunque come volete, grande, e ovviamente io la vecchia edizione, di questo vi è uscito il video, non mi ricordo, se è lunedì o martedì, comunque è uscito il video stasettimana, quindi invito ad andare a recuperarlo, non è che si è Evangelion, penso e spero che lo conoscano tutti, soprattutto il primo anime, l'anime storico del 95, che deve essere visto da tutti. Manga conclusi sto mese, Phantom Seer, volume 4, 5,50, conclusi, però lo sapevo che è stato stoppato in Giappone, però l'ho trovato abbastanza carino, riuscirà la recensione ad agosto. Altro manga che uscirà la recensione ad agosto, che si è concluso, ed è il Rasputin 3, 15 euro della Star Comics, questo bellissimo, fantastico questo manga, ve lo strastra consiglio, storico, psicologico, politico, drammatico, psicologico, davvero, tratto da una storia vera tra l'altro, disegni di Junji Ito, davvero, secondo me, è un eco manga che, fa aprire gli occhi su parecchie cose, soprattutto secondo me se fossi giapponese, lo apprezzerei ancora di più, e mi farebbe aprire gli occhi su molte cose. Poi l'ultimo manga che si è concluso sto mese, che di questo uscirà il video, recensione, cioè La Finestra di Orfeo, questo è il volume 9, l'ultimo, 12 euro, di Ryoko Ikeda, e secondo me, tre manga di Ryoko Ikeda, tra quelli che ho letto, secondo me, è quello più bello, è più bello ancora, della Rosa di Versailles, secondo il mio punto di vista, poi ognuno, ma nei suoi gusti per me, è ancora più bello, della Rosa di Versailles. Poi invece, manga che ho deciso, di non continuare, più che stoppare, è Sing of Affection 2, Sing of Affection 5R5, la Star Comics, perché sia uno shoujo, però per me, che sono maschio, è già troppo sdolcinato, rispetto ad altri shoujo, quindi, è carino lui, però secondo me, è troppo sdolcinato, almeno per un maschietto, quindi, avendo così tante serie in corso, ho deciso di stopparlo, però vi avviso che, al prossimo mese, recupererò tutto, cioè ad agosto, recupererò tutto, riprenderò, perché ho solo il primo e il due, tutto blue lock, quelli che sono usciti. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo ai prossimi video.